Ciao ragazzi sono Leotek e bentornati in questo video del canale in questo video andremo insieme a vedere come completare la fida che ci chiede di guidare esattamente 5000 metri a bordo di uno Stormings nella modalità Freaky Flights ma quindi per iniziare con il video come sempre voglio ricordare che se volete vincere a skin o a pass battaglia vi basterà il silenzio a questo canale attivando la campanella delle notifiche appunto ragazzi come vedete ecco qua dovremo entrare all'interno di questa mappa dove trovate il codice subito qua sotto nei commenti entrate easy all'interno di un oggetto così quindi continuate mi raccomando senza farvi ammazzare che sarà molto impossibile io non so guidare l'aereo come vedete quindi andiamo a prendere uno che magari è già indirizzato entrate così perfetto andate in avanti penso che esatto con spazio in questo caso dovreste alzarvi non lo so ragazzi perché vediamo un attimo shift no ok non so guidare l'aereo ma va benissimo lo stesso quindi continuate così dovete andare di qua dovete esattamente fare in modo di poter partire quindi entriamo in quest'altro qua che è già indirizzato oddio allora ah ok quindi così avviamo ok perfetto dovete andare qua sopra e dovrete esattamente andare così semplicemente volare come vedete percorri 5.000 metri quindi continuate mi raccomando così basta che andate così dritto senza fare assolutamente niente potete anche andare a sparare nel frattempo gli altri avversari in modo da completare anche altre sfide come vedete siete già a 508 metri quindi andate a sparare anche a questi aerei qua su come vedete questo è l'unico aereo nemico abbastanza raggiungibile attenzione che sarà molto molto forte come vedete abbiamo già sparato abbiamo già anche ottenuto subito 50 points e quindi andate così e vi basterà volare in continuazione in modo da poter ottenere subito questi aerei quindi come vedete molto molto semplice non dovrete fare assolutamente niente come vedete ora in questo caso stiamo già precipitando ma va benissimo lo stesso come vedete stanno aggiungendo un bot di aerei amici e anche nemici aspetta girate siamo già a 1000 metri intanto mi raccomando continuate a sparare a tutti questi aerei perché vi andrà anche a contare un'altra sfida che però poi vi servirà in futuro quindi prima di fare l'altra dovrete completare questa continuate a sparare addosso a questi aerei come vedete mancano solamente quasi 4000 metri quindi in circa altri 10 minuti di volo dovreste riuscire a completare questa sfida in maniera davvero davvero semplice è un po' difficile colpire i nemici perché sono piccolissimi quindi in questo caso perfetto siamo già a 1500 l'unico modo per fare questa sfida è andare così dritto quindi come avete visto il video oggi può anche terminare qua io spero che vi sia piaciuto qui detto questo iscrivetevi al canale lasciate un mi piace e detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima grazie